Siamo qui con Federica Abate, ciao Federica, benvenuta su SMS News Quotidiano. Allora, siamo qui per parlare del tuo primo disco di inediti da cantautrice, Canzoni per gli altri. Canzoni per gli altri che già dal titolo, non so, ha dei significati diversi, perché uno pensa alle canzoni appunto scritte per gli altri, come tu hai fatto tantissimi successi, si pensa alle canzoni per gli altri, inteso date agli altri come pubblico, che le ascolterà. Quindi raccontaci appunto un po' qual è il senso tuo. Beh, mi hanno sempre tutti un po' detto che non avrei potuto scrivere canzoni per me, perché scrivevo tante canzoni per gli altri. E quindi mi sono detta, perfetto, il titolo perfetto per il mio primo album sarà Canzoni per gli altri. Canzoni per gli altri è, diciamo, un percorso soprattutto anche a livello umano. Da Federica che veniva da In Foto Vengo Male, che è stato un po' il mio primo EP, e che aveva un sacco di insicurezze, un sacco di cose che non gli piacevano di se stessa, che in qualche modo ad un certo punto si è liberata da tutte queste cose, soprattutto si è messa in testa di voler far far pace l'autrice con la cantautrice. Infatti in Canzoni per gli altri queste due anime convivono, anzi collaborano tra di loro. Io volevo essere, non volevo essere l'una nell'altra, discapito dell'una nell'altra, ma volevo essere entrambe e questo disco l'ho fatto contemporaneamente. Possiamo dire che anche a livello di sonorità, di genere, insomma, convivono un po' tutte le tue anime, tutte le tue sfumature all'interno di questo disco e si sente appunto molto ascoltando. Perché Canzoni per gli altri è un songwriter album e quindi il protagonista non è soltanto Federica, ma è la mia penna. Quindi la mia penna ha un sacco di sfaccettature, non mi sono posta dei limiti di colore che potevo avere. Chiaramente alcune cose che proprio cozzavano con la mia vocalità non le ho messe, però in tutto il resto sono andata libera e anzi ho amato il fatto di poter includere tutte le sfaccettature un po' della mia penna e di poter avere poi, a seconda del mondo che andavo a disegnare, un esponente, diciamo, importante poi della musica italiana, nonché amico, ad accompagnarmi. Quindi sono nove i compagni di viaggio in Canzoni per gli altri. Ecco, volevo chiederti qualcosa in più riguardo Grandine e riguardo tra una canzone e l'altra dove parli dell'avere la capacità di accettare anche il vuoto e il silenzio, quindi non riempirlo per forza. Assolutamente sì. Oggi tendiamo tutti a correre, a essere molto veloci nelle cose, a riempire, a riempire. Ci fa paura il vuoto, ci fa paura il silenzio, invece a volte dovremmo imparare ad apprezzarlo perché è importante prendersi quello spazio come quello che c'è tra una canzone e l'altra, fermarsi, riflettere, correggersi, migliorare. Anche se uno non corre nella vita, non è detto che non arrivi da qualche parte necessariamente, no? In Grandine invece parlo principalmente di me, di una me appunto più adulta, che non ha più voglia solamente di tenere tutto sotto controllo, ma che a un certo punto ha voglia anche di perdere il controllo per guadagnarne uno nuovo. Invece in canzoni per gli altri c'era una frase che mi aveva colpito particolarmente quando tu dici, tu sai che parlo di noi, che non solo sono canzoni per gli altri. E beh sì, perché comunque è un po' una confidenza che io faccio a questa persona a cui parlo in questa canzone, dove gli dico, guarda che tutte le canzoni che scrivo mica sono inventate, sono pezzi di vita mia. Io ci parlo di te in queste canzoni e parlo a te attraverso queste canzoni, anche se non lo sai. Quindi anche quando scrivi per gli altri comunque c'è sempre un po' di te dentro. Assolutamente sempre, queste canzoni sono sempre all'inizio sempre un po' mie e dopo diventano degli altri, prendono una seconda vita a partire dal fatto di essere cantate da un'altra voce. Il disco si chiude con sogni prima di dormire insieme a Matteo Romano, in cui dici scelgo sempre i sogni prima di dormire. Qual è il sogno che hai scelto in quel sogno? Beh, io dico sempre, almeno questo mai nessuno me lo può impedire, scelgo sempre i sogni prima di dormire. Il fatto che nessuno ti possa impedire di sognare quello che vuoi, io in quel caso, in quel momento della mia vita sognavo di essere più libera, di avere il coraggio di liberarmi da una situazione cristallizzata che mi stava comunque opprimendo e dove tutte le energie venivano utilizzate per stare in questa situazione e non tanto per spiccare il volo, invece avevo bisogno di farlo, di fare quest'album, di essere la donna che pian piano sto diventando. Hai annunciato, insomma, che lo presenterai con questo live il 26 di novembre alla Stante Vito. che io, insomma, accompagno nel loro. Ultimissima curiosità, la cover. La cover. Interessava appunto sapere qualcosa in più sulla scelta della cover, se l'immagine. Allora, sono le nove canzoni, queste persone che vedi. Ogni canzone ha un suo simbolo, una sua Polaroid. Abbiamo me al centro, che questa volta non si copre la faccia, ma è una Federica fiera, una Federica che non si vergogna di quello che è, che si sente anche bella, per certi versi, che si accetta. E niente, questo. Bene. Grazie mille, Federica. E complimenti. Grazie mille. Grazie mille.